buon campanna bella gamers e benvenuti in un nuovo video io sono andy gamer e oggi non sono su brawl stars oggi siamo su zio peppe stars lol e oggi giochiamo subito in questa mappa sconcia che sicuramente già evitata vero cioè già censurata no no c'è censura ormai l'ho detto elimino la porta dove l'hai detto no non ho detto ho detto soltanto che sconcio non andrei se fermo non colpire ti pre... basta! ho vittorio ah grazie basta dollo fai se sei al centro non siamo più amici va bene non lo siamo più basta finito non stiamo censura è finita qua vai fuori vai fuori vai fuori adesso non ti voglio più sentire vai fuori vabbè ti spello io basta non mi interessa niente no 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 niente niente no io disinstallo brawl stars no basta finito finito come lei oh non riesco adattarmene no io ho disinstallato per un start in serio? si no come come non puoi farmi questo io lo ho disinstallato tanto lo so che non l'hai disinstallato perchè ho visto perchè ho visto che è attivato un gadget quindi prima adesso l'ho disinstallato no 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 sei tu quello sei tu quello no io sto scrivendo una cosa in questo momento non sono io che mi muovo non è vero non è vero si tu lo sapevo che... lo sapevo che... che lo sapevo che... no basta io me ne vado adesso lo disinstallo davvero nooooooo non lo disinstallare ti prego ti repgo ti repgo io l'ho disinstallato no 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 l'ho disinstallato la vera no condividimelo scherzo quando uso OBS per fare i video non posso non me lo fa fare è una scusa che le sai hai mai visto che uso OBS io andrea dai non dire bugie ah pixel ma tu per caso sei mai venuto a casa mia e mi hai visto usare OBS sai come funziona eh ma rispondo rispondi no guarda ho visto un pesce che lo faceva non hai mai visto però se mi hai visto allora usare OBS non mi hai mai visto usare di usare una condivisione schermo con OBS quindi non puoi giudicarmi faffanciullo stoppa la registrazione elimina il video lo stoppate la registrazione adesso ma dai ho detto stoppate la registrazione no perché è riuscito dalla partita ok ora mi guardo un po' di video i miei anche e tu guardi i miei no no io li vedo allora che cosa ha parlato l'ultimo video che ho caricato senza che lo vai a vedere senza che lo vai a vedere non lo sto andando a vedere vabbè allora di cosa parlo allora l'ultimo video si è ovvio di gamer di game si di cosa l'ultimo video che hai fatto si parla esattamente di Brawl Start senza te senza me si beh a pixel eri su scherzi a parte era uno scherzo non l'ho disinstallato Brawl si tanto lo sapevo vabbè lasciate like e iscrivetevi ricordatevi lasciate like e iscrivetevi ciao 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 ciao